Ci sono molti cittadini che stanno lanciando l'allarme e anche molte testate sui social riguardo al problema delle buche a Milano dopo le incessanti piogge di questi giorni. Come interverrà il Comune? Sono più che consapevole, adesso sto chiedendo di avere un piano immediato di ripristino e è chiaro che poi le buche si possono toppare ma è chiaro che in maniera di solutivo perché bisogna rifare il manto. Sabato mattina vedrò qualcuno i miei, cercherò anche di andare un po' in giro per la città per vedere i punti più critici. Quando si inizia con un sopralluogo? Sì, però al di là del mio sopralluogo posso vedere un paio di posti ma il tema è avere un piano cosa che ho chiesto e spero di avere tutto entro sabato. Grazie.